Procedura per l'immatricolazione o il rinnovo dell'iscrizione di studenti con DSA Sei uno studente o una studentessa Unicam con DSA? Sei un futuro studente o una futura studentessa Unicam con DSA? Iscriviti al nostro Ateneo Clicca al seguente link Carica tutta la documentazione prevista per legge Hai la diagnosi funzionale rilasciata da non oltre tre anni dal Servizio Sanitario Nazionale? Caricala in formato PDF completa di tutte le pagine Se la diagnosi funzionale è rilasciata da uno specialista privato Carica anche l'accreditamento dello specialista presso la regione in cui opera Chiedi un colloquio conoscitivo se pensi di aver bisogno di sussidi didattici Non contattare direttamente i docenti Senti prima il nostro ufficio oppure i nostri tutor Vuoi usufruire dei nostri servizi? Utilizza i moduli disponibili sulla nostra pagina del sito Ricordati prima che la nostra pagina del sito Di leggere attentamente le nostre norme per l'erogazione dei servizi agli studenti con DSA E rispetta le scadenze fissate per ciascun modulo Sei pronto? Sei pronta? Ti aspettiamo Servizio accoglienza studenti con disabilità e con DSA Unicam Telefono 0737 404602 Mail servizio.disabili Chiocciolaunicam.it Contatto Skype servizio.disabili Grazie a tutti Grazie a tutti